Ecco, guardando questi bellissimi cipressi sulla valle del Wadi Amud, vedo questi alberi che si alzano dritti, maestosi, cercando la luce, come tutti gli alberi fanno, le piante, per poter vivere e mangiare. Ed è un ottimo modo, per loro va benissimo, arrivano dritti in cima e sono sicura che funziona, se no non si sarebbero evoluti così. E poi vado a vedere, intorno a questa valle è anche piena di ulivi, eccolo lì, questo bellissimo ulivo. E guardate come cresce in maniera diversa, ha girato da una parte, poi dall'altra, poi tutti i suoi rami cercano nuove vie, nuovi modi di trovare luce. Anche questo va bene, funziona alla grande, funzionato per tutti gli ulivi, per secoli, per miliardi di anni. Ecco, anche noi dovremmo ricordarci che non si arriva alla luce, o comunque sia alla vita in generale, solo in un modo, solo dritti, così di corsa. Ci sono tante forme, tanti modi, tanti modi per imparare anche, tanti modi per vivere. Chi si mette dritto a un fine, ecco adesso lo faccio, arrivo lì, benissimo. C'è anche chi impara come un ulivo, c'è anche chi vive come un ulivo, che va un po' da tutte le parti, ma sono alberi fortissimi, tra l'altro vivono per migliaia di anni, di cipressi meno. Ricordarsi che ci sono varie modalità di vita, di approccio alla vita, non solo fisicamente, ma in tutti i sensi. Buona giornata a tutti.